Allora, buonasera, siamo alla vigilia quasi, all'antivigilia, diciamo così, degli Euroderby di Coppa dei Campioni, è veramente delle semifiane di Coppa dei Campioni, domani si parte. Devo dire che è un'esperienza che mi attrae molto e veramente l'ho già fatta, però è un'emozione grande perché immagino Milano sarà in subuglio, sarà un subuglio emotivo da chissà quanti altri giorni ancora. E la cosa ovviamente mi colpisce perché la partita è molto molto importante, però c'è anche l'altra semifinale, quella tra Real Madrid e il Manchester City, io farò un tifo indiavolato per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, però non voglio parlarvi di questo, voglio parlarvi di allenatori. Sto vedendo una partita, mi vedete distratto ogni tanto, perché sto guardando una partita tra il Brighton e l'Everton, l'Everton mancano circa 20 minuti più il recupero alla fine della partita, sta vincendo 3-0 l'Everton fuori casa a Brighton. Nel primo tempo poteva stare anche, tutti i gol nel primo tempo potevano stare anche 5-6-0, perché obiettivamente il Brighton quando perde palla in fase di impostazione lascia delle voraggini alle sue spalle, l'Everton è stato bravissimo ad insinuarsi e ha segnato tre gol, avrebbe potuto segnare di più perché si parla tanto, insomma in questo momento di allenatori e in particolare dell'allenatore del Brighton che è uno dei più stimati dalla critica in generale. Io vorrei parlare anche di un allenatore che però lavora in Italia, lavora in Italia e vorrei parlarne in qualche modo prendendo spunto da una esperienza personale che mi riguarda, non solo me per la verità, riguardava tutti i giornalisti al seguito, i colleghi di Inviati al seguito della Nazionale e di tante edizioni della Nazionale, non solo quella di Cesare Prandelli, dove Tiago Motta era il perno centrale del centrocampo, era un po' il punto di riferimento del centrocampo, era l'uomo più importante. Prendo spunto anche da una recente invasione di Gigi Buffon sui social media e su una popolarissima rubrica che riguarda i calciatori importanti del recentissimo passato italiano e che hanno sempre ospiti molto importanti e Gigi Buffon parlando con Bobbo Vieri, parlando con Antonio Cassano, parlando con Lele Adani, parlando con Nichi Vento, la diceva, ma insomma io non capisco perché mettevano in discussione, qualcuno metteva in discussione Tiago Motta, non capiscono proprio nulla di calcio, vi rendete conto mettere in discussione Tiago Motta che è il più bravo di tutti. E quando noi facevamo le domande, perché c'è stato un periodo in cui Tiago Motta era un pochino, diciamo così, non visto benissimo dalla critica negli suoi anni nazionali, perché sembrava lento, sembrava un giocatore macchinoso, sembrava un giocatore che ritardava un pochino l'azione, sembrava uno di quei calciatori molto belli da vedere, esteticamente molto belli da vedere appunto, ma poco efficaci. E tutti gli allenatori che io ho incontrato nei club come in nazionale mi hanno praticamente fatto capire che una maglia l'avrebbero dato a Tiago Motta e poi ne avrebbero trovati altri dieci. E adesso forse capiamo il perché. Ce l'ha spiegato innanzitutto Gigi Buffon, che ci ha detto, guarda, questo qua è il più forte di tutti, e voi lo mettevate così sotto i riflettori, criticandolo in tutte le maniere, non capita niente di calcio. E insomma, se lo dice Gigi Buffon, un minimo di attendibilità, un minimo di credibilità ce l'ha, anche fino a prova contraria, è stato forse il più forte portiere di tutti i tempi, e ancora tra i primissimi secondo me al mondo, quindi un minimo di credibilità, avendo vinto quello che ha vinto, bisogna dargliela e di attendibilità. Insomma, tenderei a dargli fiducia, ecco tutto somma, per usare un eufemismo ovviamente, sto facendo l'asino. Ma se te lo dicono tanti allenatori e ti dicono, guarda, e ti fanno capire, guarda, io prima do una maglia a Tiago Motta, poi faccio giocare gli altri, e gli do la maglia agli altri, ti fanno capire quanto è importante un calciatore e quanto questo calciatore nel ruolo che ha svolto e l'importanza che ha avuto proprio per la gestione, gestione proprio della squadra, evidentemente può diventare un grande anche come allenatore. possa diventare un grande anche come allenatore. Il Bologna è una squadra che dopo un rodaggio, ora Bologna era un clima molto particolare, la scomparsa di... Leverton ha fatto il quarto gol nel frattempo, credo ancora in contropiede, adesso magari ve lo dico, anche se è così i tifosi del Leverton fanno una grandissima festa a Brighton. Io, insomma, è chiaro che a Bologna si viveva una situazione molto molto particolare, dopo la scomparsa, dopo la morte di Sinister Milare, invece che ci ha un pochino dilaniato a tutti, tutti quelli che l'hanno conosciuto, tutti quelli che evidentemente gli sono stati vicini in questi anni, non solo per motivi professionali, alcuni anche per amicizia, io no perché non eravamo amici, ma insomma lo conoscevo perché lo incontravo spesso da allenatore, lo incontravo spesso da calciatore, ho avuto molto spesso malo di parlare con lui, ma è un'esperienza che ci ha segnato tutti moltissimo e devo dire che lì era una situazione a Bologna molto particolare, sì, vi confermo che il Brighton perde palla su un suo calcio d'angolo, poi si aprono le praterie, ovviamente marcature molto molto larghe, molto lasche, c'è anche un giocatore che insegue un avversario e che pur di nio si fa male per un problema fisico, poi l'imbucata in aria per la punta che con una finta mette a sedere il difensore e il portiere, fa gol 4-0 per l'Everton a Brighton. E vi dicevo che appunto era una situazione molto particolare quella di Bologna e c'è voluto del tempo perché Tiago Motta entrasse proprio nelle fibre di quello spogliatoio, di quel club, di quella società ed oggi vedo una squadra in Bologna che ha degli atteggiamenti in tutti i reparti molto molto convincenti e credo che possa diventare uno degli allenatori, Tiago Motta appunto il brasiliano, naturalizzato italiano eccetera, ha giocato con la nostra nazionale, uno dei giocatori più importanti e uno degli allenatori, anzi scusate, più importanti del panorama mondiale. Perché poi quando riesci a fare le cose bene da noi, da tecnico italiano, riesci soprattutto a essere molto molto stimato all'estero e fai cose molto buone all'estero, come sta facendo ad esempio De Zerbi a parte la partita di stasera. Perché allenare l'Italia è difficile, perché il campionato italiano non è il più spettacolare, ma sicuramente il più complicato da giocare. Quindi attenzione a Tiago Motta, guardate come gioca il Bologna, guardate l'attenzione che pone nelle coperture preventive, guardate come riesce sempre a far rimanere la linea di centrocampo molto attenta sulla linea di uscita del pallone quando prende una ripartenza. Guardate tutte queste cose, guardate anche la possibilità che hanno gli attaccanti del Bologna di muoversi esternamente incrociando, che danno appunto la possibilità ai portatori di palla con il movimento degli attaccanti, che hanno sempre tante opzioni a disposizione. Ecco, il succo del discorso è attenzione a Tiago Motta, perché sarà veramente un grande allenatore e sarà uno di quelli di cui sentiremo parlare. Peraltro, se posso aggiungere, alla fine di questo discorso, ogni volta che si va a intervistare Tiago Motta, di una gentilezza, di un garbo, di una cortesia e di una disponibilità che non sono così facili da incontrare nel nostro mondo. Quindi, complimenti Tiago Motta e insomma, in bocca al lupo per tutto, per la tua carriera che sarà sicuramente splendida, così come l'è stata da calciatore, lo sarà anche da allenatore. Ci sentiamo domattina e ci vediamo pure per parlare di Coppa dei Campioni. E non direi che vi riga altro. A presto.